Lasciamo tutto quello che è successo in questa settimana, soprattutto in questa partita a Cesena e continuiamo a lavorare per come abbiamo sempre fatto. Possiamo ben sperare perché comunque è una squadra che fa circa 7-8 occasioni gol a Cesena. Non c'è nulla da dire, insomma. Una squadra che comunque è un'ottima squadra, non ci ha messo quasi mai sotto per tutta la gara e quindi fa ben sperare, sì. Purtroppo il risultato non ci premia al 100%, però pazienza. Può succedere, possibilmente potrà succedere anche qualche altra volta in campionato, non dobbiamo andare avanti per la nostra strada e non pensare a nient'altro. Io sì, io mi fido al 100% perché questa squadra ha dimostrato che nel corso del campionato, partita dopo partita, ha avuto dei margini di miglioramento netti. E questa squadra credo che possa ancora stupire perché comunque è nelle nostre capacità e abbiamo abituato anche Trapani a queste situazioni, quindi io sono fiducioso per il proseguimento del campionato. Credo che quella di Cesena sia stata solo un'occasione. Spero non accada più perché comunque già la seconda volta francamente suscita abbastanza rabbia.